Ciao a tutti, io sono Videomaker e benvenuti in questo nuovissimo video Dopo tutto questo caldo Dicono che pioverà Dopo aver questo video Il giorno dopo aveva piovere E aveva già grandinato la stessa settimana Guardate qui a casa mia Quindi ho pensato perché non farci un video Adesso vedete tutti i filmati che ho fatto nel primo temporale Poi il giorno dopo sono uscito Ed era pieno pieno ma proprio pieno di acqua Sentite che rumore faceva l'erba Poi è uscito il sole E guardate qua il parco avventura Tutto bagnato Vi volevo far vedere queste costruzioni che ho fatto Probabilmente ho fatto il cancello Che si può aprire e chiudere Poi salendo qua Ho costruito anche il ponte Questo ponte qua Che prima non c'era Adesso si può tranquillamente passare da di qua Spero che questo video vi sia piaciuto E grazie per i 17.000 iscritti Se volete guardate uno di questi video Se volete iscrivetevi E attivate la campanellina Ciao al prossimo video Ciao